Bella ragazzi, io sono Dante e oggi giocherò la modalità demolizione su Special Force 2 Cerco la sala e inizio il gameplay Ok, ho ripreso il video, un attimo che inizio il gameplay Dobbiamo evitare che piazzino la bomba Da dietro, cazzo Non lo campero qua Eh, non ce la faccio con il tempo Peccato E' anche killati tutti e due, vabbè Come sentite il gioco è tutto in italiano, completamente in italiano E in America si chiama Soldier Front 2 In Italia è Special Force 2 Ah, vabbè Tutte e due Vediamo che fa il mio team Sono due contro due Sai che non ce la fanno Ok, due contro uno Eh, ma la devono di settimana un po' se lo camperà tutto sto tempo Non sapeva nemmeno come si disinesca Vabbè Siamo qua Siamo qua E' un po' E' un po' E' un po' E' un po' sto facendo cioè mi sto camperando un po' la zona però mi sa che sono di là ok buono allora corro subito in B B B B B B B B ecco lo sapevo qua c'è il muro non la conosco la mappa vabbè è vinta questa però adesso stiamo mangiando 3-2 va bene così è morto subito in B perfetto adesso corro subito in B vediamo se se così non piazzano la bomba che lo chillo prima stai vabbè vabbè tanto me lo chillo ecco qua S2 S2 m e lì disattivo dai 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 ok round vinto è fatta abbastanza bene sta modalità è più bella su alliance cioè Ava ma anche qui è carino appriso e l'altro vincere di merda c'è c'è chi in questo qua? tutti no c'è tutti uno vabbè tanto siamo siamo tre contro uno quindi ce la potremmo fare eccolo qua eccolo qua ok adesso si passa dalla difensiva all'offensiva adesso noi dobbiamo piazzare fare terroristi ecco gli altri devono disinnescare la bomba ci sono ci sono vabbè buono, buono ora corro direttamente di granato, faccio una cosa vediamo se li prendo no merda c'ha una una k47 mi sembra preso la bomba è stata piazzata devo girare di qua, devo girare di qua ah già ma io la devo piazzare, ho convinto che dovevo ancora disnescarla vabbè 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 c'è fatta tutto e due sto qua sono uno contro uno ok, vinto missione compiuta obiettivo è stato distrutto obiettivo localizzato obiettivo distrutto eh, mi ho shottato e vabbè io ho fatto dodici kill due assist e sette morti ah pensavo due morti eh, dicevo io non basta da solo uno contro uno dai 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 che c'è poco HP cazzo l'ho fregato no cambia il giro no cambia il giro lo sapevo che si mette quella S pro a camper A se loro vanno di là io vado di qua guarda questo come camper ma che schifo giocare cos'è ah, da dietro vabbè ma ci vinto ok ragazzi per questo video è tutto ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti.